Un uomo, a cui era morto il cane da poco tempo, decide di andare in chiesa e andare a parlare col parroco per chiedergli se poteva celebrare una messa per il suo cane. Il parroco appena sente una cosa del genere, tutto scandalizzato, Pidea gli risponde, ma come si permette? Qui in chiesa celebrare una messa per il cane non sia mai, non si rischia a chiederlo di nuovo. Allora il signore gli risponde, ah sì, io che pensavo di donare 30.000 euro qua a questa chiesa e lei mi sta dicendo questo, allora il parroco gli dice Ah, me lo poteva dire prima che era un cane cattolico, scusi! Ui, 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 ui!